Condividi il Vangelo con gli altri. Cristo risorto, buona giornata e buona domenica carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Matteo 25, 14, 30. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i Suoi servi e consegnò a loro i Suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno. Secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buone e fedele, gli disse il suo padrone, Se sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse Signore, mi hai consegnato due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buone e fedele, gli disse il suo padrone, Se sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha e il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti. A me. Cari amici, siamo ormai verso la conclusione dell'anno liturgico, siamo nelle ultime domeniche, dove continuamente ci viene proposta una parabola da parte di Gesù, parabole, racconti escatologici, che riguardano quindi la fine. Oggi Gesù racconta questa parabola di un uomo che deve partire per un lungo viaggio, chiama i propri servi, consegna loro i suoi beni. Cinque talenti, due talenti, un talento. Innanzitutto un talento non è una moneta, un talento equivale a 6.000 denari circa. Un denaro è la paga lavorativa di un giorno. Quindi se voi pensate, cinque talenti ricevuti dal primo servitore sono ben 30.000 giornate lavorative, equivalenti circa 82 anni di lavoro. Tutta la vita, molto di più, perché non si parla quindi dei giorni tipo la domenica dove non si lavora. Pensate che patrimonio. Quindi cinque talenti non sono cinque monetine d'oro o molto preziose, ma una quantità enorme di soldi e di capitale. Ciascuno di questi tre servitori ne riceve secondo le proprie capacità. Ciascuno fa un uso differente. Coloro che hanno ricevuto cinque e due talenti le investono, ne guadagnano altrettanto. Colui invece che ha ricevuto un solo talento ha paura di perderlo, scava un terreno per terra e quando il padrone ritorna, torna e non si sapeva quando sarebbe tornato, ecco che tutti consegnano ciò che hanno ricevuto e hanno guadagnato in più. E all'ultimo servitore che invece per paura non aveva fatto fruttare quel talento, riceve una sgridata, una tirata d'orecchie da parte del padrone, perché dice ma perché non l'hai fatto fruttare? E agli altri dice prendete quel talento, datelo a chi già ne ha. Ecco che questa parabola comunemente noi la spieghiamo, l'abbiamo spiegata o è un luogo comune spiegarla dicendo che ogni uomo ha un talento o ha dei talenti, ha dei doni che deve mettere a servizio degli altri. In realtà non è così la spiegazione. Questa parabola è una parabola che ha fortemente un senso cristologico ed escatologico. il capitale che ricevono queste persone è il capitale che i discepoli di Cristo, e noi siamo suoi discepoli, hanno ricevuto. È il regno di Dio. Il capitale è la nostra fede. I 6.000 denari è la tua fede in Gesù Cristo, è il tuo incontro con Dio, è la tua vita in Lui, è la trasformazione che giorno dopo giorno tu ottieni grazie al Padre. Signore, ecco perché ogni volta quando parlano a questo padrone che ritorna, gli dicono Signore mi hai consegnato, Signore mi hai consegnato, questo termine in greco Kyrios, vocativo Kyrie, si riferisce al Cristo risorto, non è un Signore. Ecco che siamo già in un tema del giudizio finale. Quando, dopo aver vissuto su questa terra, andremo in cielo e di fronte all'agnello di Dio Cristo, noi diremo, Cristo, tu sei entrato nella mia vita, tu mi hai toccato, mi hai trasformato, mi hai cambiato, ebbene questa esperienza io l'ho donata agli altri, io ho portato il tuo Vangelo. non me la sono tenuta per me, l'ho voluta condividere con gli altri, ho portato la speranza che io stesso ho ricevuto, l'ho portata agli altri. La gioia che tu hai messo nel mio cuore, io l'ho voluta condividere con chi incontravo, con quello della mia famiglia, con i miei amici. Ecco che cosa significa questa parabola, condividi quello che hai in Cristo, quello che Dio ha fatto per te, portalo agli altri. E che cosa significa questo terzo servitore, con un solo talento, ma sempre tanto? Che cosa significa il fatto che lui lo ha sotterrato? Tutte quelle volte che noi cristiani viviamo il dono della fede solo per noi, anzi, addirittura, non lo consideriamo. E viviamo la fede come una veletante religione, uno stile di vita solo in poche aree della giornata, quando noi abbiamo bisogno o nella nostra vita. Quando stiamo male, siamo nel pericolo, c'è un problema, preghiamo Dio e basta, e agli altri parliamo poco spesso di Dio. Non condividiamo perché la nostra stessa vita di fede non fa differenza. Prego o non prego è lo stesso. Vado in chiesa o non vado in chiesa è lo stesso. Gesù mi ha salvato, Gesù è morto sulla croce oppure no, è lo stesso. E' tutta la stessa cosa. Ecco cosa significa vivere con un talento e sotterrarlo. Disprezzare il dono di Dio, disprezzare la sua venuta, disprezzare quello che ha fatto per noi, ignorarlo. Ma io vivo, se Gesù è davvero esistito, è davvero morto sulla croce oppure no, a me non cambia. Io continuo a vivere. Quanto è importante, cari amici. Noi siamo quelli che hanno ricevuto cinque talenti. Perché abbiamo il dono della parola, perché lo leggiamo quotidianamente e perché la parola ci cambia. L'invito è proprio questo. Apriti agli altri, non tenere per te questo tesoro. Portalo a chi non l'ha ancora trovato. Signore Gesù, grazie perché oggi visiti la mia vita. Incoraggiami, oh Signore, ad essere un testimone gioioso della buona notizia, che tu mi hai salvato, che tu sei il mio fianco, che tu sei la mia perla preziosa, tu sei il tesoro più grande che io possa avere. Signore, grazie per il capitale che tu mi hai donato. grazie perché io ho ricevuto gratuitamente questo dono. Grazie perché l'ho ricevuto gratis per donarlo agli altri, nello stesso modo, generosamente, con tutto quello che io sto vivendo e con tutti i frutti che tu mi hai donato. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi lo slogan è condividi il Vangelo con gli altri. Condividi il tesoro che hai ricevuto da Dio con tutte le persone che conosci, che incontri. E riceverai ancora più grandi benedizioni per tutta la tua vita. Amen. Cari amici, vi diamo anche un altro bellissimo annuncio di gioia. Domenica 10 dicembre a Torino avremo un altro incontro di evangelizzazione, di lode e adorazione con la musica come Shout Coinonia. Sul nostro sito potete trovare l'iscrizione a questo evento perché i posti sono limitati. Grazie per averci accolto. Buona domenica. A domani. Ciao. Grazie per averci accolto.